Esercitazione antincendio, due feriti, uno in barca, l'altro sotto, travolto da numerosi travi e ferraglia. Stiamo aspettando i vigili del fuoco, le ambulanze sono tutte spiegate, i vigili del fuoco stanno facendo manovra, a secondi saranno sul posto. Ferito travolto e quasi in stato incosciente, come sempre, tutta la vita. L'altro ferito è sulla barca, ustio nato dalla benzina, sta uscendo della roba nera dalla bocca. Oh, dimmi. Arrivano, arrivano, arrivano.